amici di quarta prete eccomi qua di nuovo al teatro antigone per parlare di racconti dallo yorkshire un testo scritto e diretto da massimo cardinali che qui vicino a me buonasera massimo e tra gli interpreti o qui vicino a me a maria de laida i terribili buonasera maria de laida ci ritroviamo dopo le esperienze del comic off allora giusto citare anche gli altri interpreti ovvero alice cerruti teresa terenzi paola caldarola sarà catacci fabio orlandi loredana dei pasquali amelia moriconi e lo stesso massimo cardinali quindi non ti sei fatto mancare nulla no no allora racconti dallo yorkshire quindi c'è un po richiamo a questa atmosfera è un po british no massimo sì però in realtà questa questa lavora nasce è il prodotto di un laboratorio teatrale di tre anni fa e partecipiamo appunto con questo spettacolo alla rassegna della cometa e così dopo appunto tre anni abbiamo pensato di rimetterlo in scena con alcuni attori cambiati e si rifà un po diciamo che è una parodia del dei gialli inglesi con mille nomi diversi con mille mille sfaccettature quelle sorella fratello quelli incastri quelli incastri 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 e quindi insomma evoca anche figure se vogliamo anche un po mitiche come filovance o puerò no sì a questo punto direi più filovance allora cerchiamo un po di spiegare in pilole questa storia no che insomma a tinte un po gialle a tinte un po gialle perché viene scoperto un caso un caso che si è verificato qualche anno prima e durante il quale ci fu una esplosione nel porto di una cittadina inglese in cui durante questa esplosione morirono degli operai e morirono proprio tre fratelli che erano i mariti di tre sorelle e quindi a un certo punto appaiono queste tre vedove queste tre vedove che praticamente avevano avevano architettato tutto per prendere i soldi insomma i soldi i soldi di movimenti economici per cui niente però alla fine questa questa queste tre vedove vengono scoperte da questo investigatore con l'aiuto di una di una zia che è l'erede diciamo di questo di questo matrimonio consumato per pagare questo questa assicurazione a queste tre vedove che invece vuole andare avanti nelle indagini e finalmente scopre una serie tutta una serie di incastri insomma abbastanza interessanti no sì 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 perché in certo punto si lascia insomma un po con sempre un po con questo finale in sospeso sì 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 perché poi a certo punto si scopre che una ragazza e volevo dire si apre una scatola e se ne chiude un'altra insomma è una scatola e non se ne chiude un'altra ma se ne apre solo un altro e basta quindi giusto lasciare un po di mistero no no perché il mistero è ancora nostro proprio nostro e ancora fa parte di noi il mistero quindi forse alla fine delle repliche capiremo capiremo e spiegheremo una lunga saremo più precise più avanti sì alla fine il tuo personaggio cosa puoi raccontare e dire qualcosina beh che sono sicuramente molto vedova molto molto nera molto diversa in seconda dei momenti fica abbiamo capito esattamente tutto mi pare mi pare mi pare in linea no con l'atmosfera l'atmosfera femminile sì sì va bene non aggiungiamo altro quindi lasciamo naturalmente la due sentenze al pubblico che verrà a vedervi no quindi racconti dallo yorkshire quindi venerdì sabato e domenica 15 qui al teatro antigone uno spettacolo scritto diretto interpretato da massimo cardinali ma interpretato ha interpretato insieme anche da liceo cerruti teresa terrenzi paola calverola sarah catacci fabio orlandi tantissimi maria dei lati terribili loretta nante pasquali e amelia borricone io che altro dirvi sono un grazie e in bocca al lupo grazie a tutti